Nel 1900 Stanislao Dessi nasce ad Arzana in provincia di Nuoro. Nel 1906 frequenta la scuola a Cagliari dove già studiavano il fratello e la sorella maggiori. Stanislao era appassionato di sport, infatti ci dice non c'è branca nello sport che non abbia mai provato e riuscì a diventare campione sardo di tuffi. Oltre allo sport, il giovane Dessi mostra interesse anche per il disegno. Morto il padre, dopo lo scoppio della guerra a causa delle difficoltà economiche, è costretto ad abbandonare l'istituto classico di Cagliari e gli viene concesso una borsa di studio dal comune per frequentare l'istituto delle belle arti a Roma. Nel 1921, ritornato da Roma, si stabilisce a Cagliari e la sua formazione sostanzialmente era compiuta. Ma rimane qualche incertezza sulla via da prendere. I suoi insegnanti all'Accademia sono Duilio Cambellotti, Giovanni Prini, Paolo Paschetto, Vittorio Grassi, Camillo Inocenti. Dessi ha riconoscimenti anche verso Onoratti Carlandi, considerato da lui un suo maestro, e verso Antonino Calcagno d'Oro. Quest'ultimo, buon disegnatore acquerellista, gli trasmette questa passione. Nel 1918 si è data a fare il servitore nello studio di un pittore e rimane contento perché ci dice «Guadagnavamo 100 lire al mese, ma con pennelli, tele e colori gratis. Dipingevamo tutto il giorno e copiavamo i suoi prototipi. Poi lui passa e dava un tocco qua e là». Nel 1922 esegue la decorazione di un fondale per il teatro all'aperto del Lido di Cagliari. Dal 1929 al 1939, Dessi si appunta su un repertorio di animali morti. Da qua il nome Natura Morta. Sceglie gli animali tra quelli meno capaci di ispirare simpatia. L'autorritratto è uno dei temi dell'autore. A questo vi si è dedicato intensamente per tutta la vita. Solo negli anni 20 ne ha realizzato non meno di 10 tradipinti, disegni e xilografie. Con le xilografie, Dessi comincia a farsi conoscere in campo nazionale e internazionale. In delle xilografie rappresenta delle famiglie come la famiglia del pescatore o la famiglia. Nel 1929, Dessi, ispirandosi a Melis Marini, aveva pre-appresentato tre composizioni raffiguranti punti panoramici ai margini della città, tipo Cagliari da Montiorpino. Sempre in quegli anni dipinge il porto cagliaritano con velieri, veliero nel porto di Cagliari, veleno nel porto di Cagliari di notte e barche nel porto. E dopo il trasferimento a Sassari, Dessi acquista la sua prima macchina fotografica e comincia a scattare e conservare le proprie istantanee. Molte di queste ritraggono momenti di vita popolare, feste paesane, contadini e donne in costume. Da una foto deriva anche l'altra opera di commissione pubblica che esegue in questo momento, un quadro con il commercio, con tutti i suoi attributi di spighe, frutta, geroe d'olio e boccioni di vino. Il commercio, seduto a gambe accavallate su una terrazza prospicente, il mare Nostrum, rimane così un giovanotto appoggiato a un mappamondo e avvolto in un lenzuolo che vorrebbe essere una toga. Nel 1930 maggio si inaugura a Sassari, nelle sale del Museo Sanna, la prima mostra sindacale sarda. Dessi era stato coinvolto in veste di membro della giuria e del comitato esecutivo. Un incarico che, affiancando le protagoniste degli anni Dieci, come lo stesso Figari, Biasi e Deritala, fornisce di sé per sé un indizio della sua rapida affermazione nell'ambiente locale. All'interno della fondazione troviamo Natura Morta con Aringhe. Sarà questa l'opera che ha ispirato i ragazzi del Pertini per il loro progetto a moda? Lo scoprirete il 10 dicembre alla mostra.